Eccoci qua, buonasera, il telegiornale avrà molte pagine importanti, innanzitutto dall'11 di febbraio, cioè da venerdì prossimo, vi ha l'obbligo di mascherine in tutta Italia, anche in eventuali zone rosse, ovunque non ci sarà più l'obbligo appunto di portare la mascherina nei luoghi all'aperto e questo è un passaggio, uno dei tanti passaggi progressivi speriamo verso il ritorno a forme di normalità, di come eravamo prima. Ma poi vedremo che la politica si è nuovamente agitata e ancora una volta come succede da quasi 30 anni, anzi da proprio 30 anni, saranno 30 anni il 17 febbraio, per decisioni della giustizia. Perché? Perché una sentenza di Napoli azzera improvvisamente le cariche principali nel Movimento 5 Stelle, azzera l'elezione di Giuseppe Conte a capo politico, avvenuta pochi mesi fa di Giuseppe Conte a capo politico del Movimento. Questo arriva, come sapete, nel bel mezzo dello scontro tra lo stesso ex Premier e Luigi Di Maio per la linea e la guida del Movimento stesso. Come vedremo, peraltro, proprio oggi abbiamo i risultati del sondaggio commissionato da noi ASVG su cosa pensano gli elettori delle principali forze politiche, cosa pensano gli elettori del Movimento 5 Stelle rispetto alla sfida tra Conte Di Maio, alle prospettive rischi di scissione, cosa pensano gli elettori del PD rispetto alla possibilità di un'alleanza con lo stesso Movimento o della possibilità di andare da soli alle elezioni? Cosa pensano gli elettori del centrodestra di quel che sta succedendo da quella parte dello schieramento che, parole di Salvini, si è sciolto come neve al sole? Cosa dovrebbero fare? Cosa è possibile che succeda? Vedremo i risultati, vedremo anche il nostro sondaggio che torna del lunedì e che delinea uno scenario nuovo. Vedremo però anche che sono ore decisive sulla questione diplomatica e speriamo non militare attorno all'Ucraina perché è in corso da molte più ore del previsto l'incontro a Mosca tra Putin e il presidente francese Macron. Ma vedremo molte altre storie italiane, a cominciare da quella di quel liceo scientifico di Cosenza, occupato da quattro giorni, da quando sono stati divulgati i racconti di molte studentesse molestate in tutti i modi da un insegnante che chiedeva di tutto in cambio di voti positivi e succedeva da tanti anni. Ma vedremo anche insieme che cosa succede all'Olimpia della Neve di Pechino, dove oggi è arrivata con la nostra Fontana la prima medaglia d'oro azzurra che è la decima della campionessa, che raggiunge Stefania Belmondo come l'atleta degli sport invernali che ha avuto più medaglie olimpiche. C'è anche l'argento di Federica Brignone. Quindi Arianna Fontana e Federica Brignone sugli scudi e domani ci sono anche i due del doppio misto di curling in una finale che ci potrebbe regalare l'oro in una delle discipline più simpatiche e apparentemente meno praticate nel nostro paese rispetto ad altri. Ma vedremo anche il data room di Milena Gabanelli su un tema importante, importantissimo. Il super bonus è quello che ha comportato dal punto di vista della sicurezza dei cantieri e degli incidenti sul lavoro. Ma apriremo il giornale con quella che è una scoperta che può essere importante e rivoluzionaria. Perché? Perché a Lausanne è stata messa a punto con l'aiuto anche di scienziati italiani una tecnica attraverso gli elettrodi che ha permesso ai primi tre pazienti che erano paraplegici di tornare a camminare. Tra di loro c'è anche un italiano e sentiremo anche la sua voce oltre a quella del professore italiano che ha partecipato a questa rivoluzionaria scoperta. Ci vediamo tra 30 secondi. Una straordinaria applicazione della tecnologia. La scienza medica ha permesso a tre persone che avevano perso l'uso degli arti inferiori di tornare a camminare. Nel midollo spinale dei partecipanti alla sperimentazione sono stati impiantati elettrodi che inviano a gambe tronco impulsi generati da un computer controllato dagli stessi pazienti. Nature Medicine ha pubblicato i risultati dell'innovazione realizzata dal gruppo del Politecnico di Lausanna di cui fa parte anche un italiano, Silvestro Micera. Ma c'è un italiano anche tra i pazienti. Lo sentiremo. Da venerdì prossimo cade l'obbligo di mascherine all'aperto in tutta Italia, a prescindere dal colore delle regioni. Bisognerà però portarle con sé, indossarle in caso di assembramenti. Si va anche verso la fine dello stato d'emergenza che scadrà il 31 marzo e con quasi certezza non sarà rinnovato. I dati della pandemia confermano la discesa della curva per la prima volta in questa ondata. Gli attualmente positivi tornano sotto 2 milioni. Restano alti i decessi. 326. Caos per il Movimento 5 Stelle. Il Tribunale Civile di Napoli, in seguito al reclamo di alcuni militanti, ha sospeso lo statuto del Movimento e ha zerato l'elezione di Conte a Presidente. Espulsioni, vincoli, secondo mandato, tutta la struttura organizzativa è bloccata e formalmente dovrà essere rivista. La sentenza parla di gravi vizi nel processo decisionale. La mia leadership non dipende dalle carte bollate, ma dalla condivisione di principi e valori. Andiamo avanti, commenta Conte. Nel nostro sondaggio del lunedì, oltre alle stime di voto, abbiamo chiesto agli italiani di esprimersi sul quadro politico del post-quirinale. Al centro la rivalità tra Conte e Di Maio nei 5 Stelle. Il futuro dell'alleanza tra lo stesso Movimento e il Partito Democratico, vista dagli elettori Dem e la situazione del centrodestra. Per i suoi elettori esiste ancora? Alle Olimpiadi di Pechino due medaglie entusiasmanti per la spedizione azzurra. Tutta il femminile, dallo short track. 500 metri arriva il primo oro per l'Italia di Arianna Fontana, che bissa il trionfo di quattro anni fa a Pyeongchang e ha la sua decima medaglia olimpica. Primato che ora condivide con Stefania Belmondo. La seconda medaglia della giornata la conquista Federica Brignone, argento nello slalom gigante. E domani c'è almeno la certezza di un'altra medaglia incredibile nel curling. I bonus edilizi, a cominciare dal super bonus 110% sono volano della ripresa economica, ma hanno già innescato polemiche per le frodi scoperte sulla cessione del credito. Con il passare dei mesi però emergono anche altre pesanti criticità, dai controlli sui costi e sulla sicurezza nei cantieri, alla moltiplicazione di subaspalti, spesso non adeguati a garantire la tutela dei lavoratori. È l'argomento del Data Room con Milena Gabanelli. Buonasera e quindi come avete sentito, pur in presenza di molte notizie importanti, apriamo con una scoperta tecnologica, scientifica, medica, che comunque ha un effetto che evidentemente fa sperare, non può che far sperare tante persone che hanno perso la possibilità di camminare, perché è proprio questo che avviene grazie all'utilizzo di elettrodi per una vera propria rivoluzione scientifica applicata alla medicina. Ogni giorno cammino per due ore, adesso punto a migliorare la qualità del passo, devo essere più fluido e anche la velocità. Al momento faccio 500 metri, voglio arrivare a un chilometro entro l'estate. Camminare è importantissimo, anche solo potersi alzare in piedi risolve un sacco di problemi quotidiani. Una semplice doccia, oggi vado e la faccio. Camminare mi rende libero, ora posso alzarmi e andare dove voglio. Arriva da Losanna una scoperta medica con tutti i connotati della prodigiosità. Alzarsi dalla carrozzina e camminare, pedalare e nuotare per molti paraplegici non sarà più un sogno irrealizzabile. Nature Medicine ha appena pubblicato i risultati del gruppo di lavoro coordinato dal Politecnico di Losanna, al quale partecipa anche l'italiano Silvestro Micera della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il dispositivo creato dal team di scienziati consiste in una serie di elettrodi che vengono impiantati nel midollo spinale sotto la lesione per inviare ai muscoli di gambe e tronco stimoli elettrici generati esternamente da un computer controllato dal paziente. L'innovazione principale di questo studio è la possibilità di personalizzare utilizzando metodi di imaging funzionale insieme a modelli bioingegneristici e biofistici avanzati, personalizzare la stimolazione elettrica del midollo spinale. In questa maniera i pazienti riescono a acquistare più capacità motore, a fare più cose e a farle in tempi più rapidi. Tre persone paralizzate dal tronco in giù hanno già beneficiato dei risultati dello studio. Poche ore dopo l'inizio della terapia avevano recuperato i movimenti. Tra loro c'è anche l'italiano Michel Roccati che perse l'uso delle gambe quattro anni fa con un incidente in moto. Il prossimo passo è uno studio clinico multicentrico coordinato sempre dal professor Curtin per cercare di capire le potenzialità ma anche i limiti di questo approccio. Sperabilmente tantissimi pazienti nel mondo potranno averne un beneficio ma bisognerà capire in maniera più precisa quali criteri di inclusione e di esclusione saranno possibili, in quali condizioni. Da punto di vista dei muscoli e del sistema nervoso in generale permetteranno ai pazienti di poter essere reclutati per questo tipo di tecnologia. Detto in altre parole non tutti potranno approfittare della novità. La stimolazione elettrica non è applicabile a ogni paziente. Molto dipende da se e quanto il midollo è ancora funzionante, se i nervi non hanno perso la loro struttura elettrica, se i muscoli sono ancora attivabili e non sono stati atrofizzati dall'uso ridotto nel tempo. Speriamo proprio che per molti che ci stanno seguendo questa sia la notizia che apre il cuore, non soltanto il cuore, ha una speranza concreta. Ma questa è la notizia. Siamo del resto nelle mani della scienza per tanto altro. Lo siamo da due anni e anzi, se forse stiamo uscendo dal tunnel della pandemia è grazie alle conquiste scientifiche, tra cui la scienza medica ci ha portato il vaccino, che è, come sappiamo, il principale motivo per cui possiamo dire che forse stiamo per svoltare. Quello che è sicuro, molto più empiricamente, è che da venerdì non c'è più l'obbligo di mascherine all'aperto. Da venerdì prossimo tocca le mascherine. Niente più obbligo all'aperto in tutta Italia, senza distinzioni di colori, neppure in zona rossa. Il provvedimento sarà firmato entro domani dal Ministro della Salute, perché il decreto che ne stabiliva l'uso scadrà il 10 febbraio. Bisogna però averla in tasca e usarla in caso di assembramenti, strade affollate, manifestazioni, luoghi di ritrovo. Ad anticiparlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che dice anche altro. Conferma che l'obiettivo del Governo è di non prorogare lo stato d'emergenza che scadrà a fine marzo. Già da oggi sono scattate le nuove regole per le quarantene a scuola eliminate per i vaccinati, così come la durata del Green Pass per chi ha fatto tre dosi è diventata senza limiti. Con un'avvertenza importante, la certificazione verde sarà senza durata anche per chi ha fatto due dosi e poi ha avuto il Covid. Scadrà invece al sesto mese per chi ha avuto il Covid e poi ha fatto due dosi. Chi si trova in questa situazione dovrà fare anche il booster. A supportare il nuovo passo in avanti arrivano anche i dati odierni della pandemia, con notizie importanti. Per la prima volta, dopo settimane, gli attualmente positivi scendono sotto i due milioni. Il tasso di positività torna sotto l'11% al 10,5%, ma sono pochi anche i nuovi contagi, poco più di 41 mila. È normale che lunedì siano pochi, ma per capire quanto sia significativa la regressione del virus, basti pensare che un mese fa, il 7 gennaio, i positivi in 24 ore erano stati 108 mila, il giorno dopo 197 mila. Sono diminuiti del 30% in una settimana, dice il Ministro della Salute Roberto Speranza. In chiaro scuro i dati dei ricoveri scendono nelle terapie intensive e salgono nei reparti ordinari. Purtroppo non si registra ancora una diminuzione delle vittime, oggi 326. E ora, da inizio pandemia, sfiorano le 150 mila, cifra più alta d'Europa. Solo la Gran Bretagna ne ha pochi di più, a fronte però di 18 milioni di persone contagiate in tutto, contro gli 11 milioni dell'Italia, cifra simile alla Germania, che però di decessi ne ha avuti 118 mila. I conti non tornano. La pagina politica, che è molto interessante questa sera, si apre con quello che è un fulmine, non al cielo sereno, perché in quella forza politica c'era già un forte contrasto interno, ma che sicuramente è un fulmine giudiziario che nessuno auspicava per sé tra nessuna delle forze politiche. Infatti una sentenza a Napoli azzera di fatto le cariche nel Movimento 5 Stelle e in questo momento, tecnicamente, Giuseppe Conte non ne è più il capo. Lui dice, vado avanti, ma intanto spieghiamo cosa è successo. Chiarimenti, espulsioni, processi, vincolo del secondo mandato, tutto bloccato, tutto congelato o comunque rimandato, perché qui ora c'è di più e forse per qualcuno di peggio. C'è che addirittura la Presidenza di Conte e i suoi cinque vice, ovvero tutta la struttura che il Movimento si era così faticosamente data e votata ad agosto dagli iscritti, al momento è stata azzerata, invalidata, più tecnicamente sospesa dal Tribunale di Napoli, che stavolta ha accolto il reclamo di tre militanti in rappresentanza di qualche centinaio di iscritti. Gravi vizi nel processo decisionale, esclusione di circa un terzo degli iscritti dalla votazione di agosto, con conseguente mancato raggiungimento del quorum. Si leggono queste cose nell'odierna sentenza di sospensione, che di fatto farebbe risorgere lo statuto precedente, quello che appunto impediva l'accesso a posizioni di guida interne a chi, leggi l'allora premio al Conte, ricopra incarichi istituzionali e a cui il Movimento reagisce subito con una nota. L'interpretazione fornita dal Tribunale del reclamo contrasta la prassi consolidata nelle votazioni seguite dal Movimento e un indirizzo che mirava scongiurare che la comunità fosse infiltrata da accordate organizzate ad hoc per alterare le votazioni. E' questa l'ennesima puntata delle guerre pentastellari che le ultime vicende quirinalizie hanno solo esasperato. E' la bomba di profondità che combava da tempo. Esplosa oggi nelle acque già molto agitate per conto loro del Movimento, una bomba che a questo punto renderebbe perfettamente inutile la richiesta avanzata ancora stamani da Di Maio di cambiare lo statuto e ancora più inutile quella di Giuseppe Conte. Di Maio non cerchi di logorarmi, aveva avvertito, ma che si cerca ancora di disinnescare in una battaglia che Giuseppe Conte, riunitosi nel pomeriggio a casa sua con l'ex ergente Vito Crimi e un avvocato, si rifiuta di credere sia legale prima ancora che politica. La mia leadership nel Movimento 5 Stelle si basa e è fondata sulla profonda condivisione di principi e di valori. Quindi è un legame politico prima che giuridico. Quindi non dipende dalle carte bollate e lo dico anche consapevole di essere anche un avvocato. Parole che arrivano comunque dopo che nel dicembre scorso la settima sezione civile dello stesso Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza di sospensione dello statuto e con lo spettro ora, se la sospensione fosse confermata, di un'incertezza profonda e magari come prevede il legale dei tre ricorrenti, Lorenzo Borre che parla di anno zero, di una nuova votazione con garante Beppe Grillo proprio su quella piattaforma Russo con cui si erano tra tante scintille di carattere anche economico definitivamente chiusi i rapporti con Davide Casaleggio. Vedremo, ma intanto la questione politica dei 5 Stelle, la questione politica del PD, la questione politica del centrodestra sono lì sul tavolo della politica dopo l'elezione al Quirinale e abbiamo chiesto a SVG di far rispondere, come vedete, agli elettori delle varie forze politiche alle domande principali. Si parla di una possibile scissione nel Movimento 5 Stelle a seguito dei contrasti tra Conte e Di Maio. A proposito, lei pensa che il Movimento 5 Stelle deve rimanere unito ma deve cambiare profondamente? Il 48% degli elettori dei 5 Stelle dice così. Oppure il Movimento 5 Stelle deve rimanere unito così com'è, il 33%. Il 15% è meglio che ci sia una scissione, ci sono troppe differenze di vedute. Solo il 4% non si esprime tra queste tre possibilità. Ma è importante vedere l'altro cartello, la scelta tra Conte e Di Maio. Rispondono gli elettori dei 5 Stelle, se ci dovesse essere una scissione. Lei si posizionerebbe dalla parte di Conte 75%, dalla parte di Di Maio 10%, dalla parte di nessuno dei due 7%, non saprei 8%. Andiamo però al PD e ai rapporti col 5 Stelle. Alle prossime elezioni lei preferirebbe che il PD si presentasse da solo e poi eventualmente formasse la maggioranza di governo con i 5 Stelle e altri partiti. Risponde sì, così, il 44% degli elettori del PD. Il 30% dice si presentasse in coalizione con il Movimento 5 Stelle, la sinistra italiana, sinistra italiana e evidentemente l'EU e qualche altro partito. Insomma una coalizione di centrosinistra e sinistra, 30%. Non facesse nessun tipo di alleanza con il Movimento 5 Stelle, né prima né dopo le elezioni, 15%. Non saprei, 11%. E infine il centrodestra. Quanto è d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? Rispondono appunto gli elettori dell'area di centrodestra. Bisogna rifondare il centrodestra che deve cambiare profondamente, 70% di cui come vedete 78% degli elettori di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, 67% degli elettori leghisti. Bisogna creare una federazione dei partiti di centrodestra, come il partito repubblicano americano, è come si sa l'idea di Salvini, infatti dice così il 71% degli elettori della Lega, ma complessivamente il 54% degli elettori della ex quasi coalizione, 59% tra quelli di Forza Italia e 55% da quelli di Fratelli d'Italia. Il centrodestra non esiste più, la più perentoria delle affermazioni, per il 45% degli elettori dell'area di centrodestra e come vedete c'è soprattutto una parte degli altri partiti minori e più centristi che lo dice, ma anche il 46% degli elettori di Fratelli d'Italia e il 47% degli elettori di Forza Italia. Infine, attenzione, la maggioranza assoluta degli elettori di Forza Italia dice Forza Italia deve staccarsi da Lega e Fratelli d'Italia e creare un nuovo polo centrista, che poi diventa l'affermazione che viene sottoscritta dal 37% del campione degli elettori. Come vedete importanti queste evidenze di sondaggio, ma poi essendo lunedì vediamo come andrebbe se si votasse oggi. Partito Democratico 21,5 più 0,3, ma subito dietro Fratelli d'Italia 21,1 più 0,6, Lega 17,1 meno 0,4, Movimento 5 Stelle 13,3 meno 0,5, è il minimo storico da quando sondiamo il Movimento 5 Stelle. Forza Italia 7,8 più 0,5, Azione e più Europa 4,4%, meno 0,1 e poi c'è la lista dei 2%, Verdi 2,5% meno 0,3, MDP Articolo 1 2,5 meno 0,1, Sinistra Italiana 2,4 meno 0,2, Italia Viva 2,1 meno 0,1, Italia Exit con paragone 2%, meno 0,1. Altre liste per far capire che c'è una galassia che si sta componendo 3,3%. Sarà così, si animerà sempre di più la scena politica in quest'ultimo anno di legislatura, una lunghissima volata. Ma noi andiamo a vedere cosa sta succedendo in quello che è l'avvenimento di politica internazionale. Non c'era nei titoli perché non si era ancora concluso fino a poco fa il vertice di Mosca tra Putin e Macron. Doveva essere un colloquio di due ore ma in realtà l'incontro Putin-Macron si è prolungato ben oltre. I due leader sono attesi a minuti per la conferenza stampa. Il presidente francese è arrivato al Cremlino con un obiettivo preciso, avviare la de-escalation, tenere aperta la finestra delle dialogo per garantire stabilità al vecchio continente ed evitare così che la crisi in Ucraina possa sfociare in un vero e proprio conflitto che sarebbe distruttivo per tutti. Putin lo fa sedere a distanza Covid, ma ne elogia gli sforzi profusi negli ultimi giorni per risolvere la questione della sicurezza in Europa, anche se è chiaro fin da subito che nessuno si aspetta miracoli da questo vertice. Troppo complessa la vicenda, troppi ostacoli da rimuovere. Tantomeno aiutano gli scenari catastrofici che Washington disegna da settimane. Attacco entro febbraio, capitolazioni di Kiev in un paio di giorni, subito almeno 50.000 vittime tra i civili e conseguente esodo di profughi verso l'Unione Europea. Per arrivare all'ultima indiscrezione rilanciata oggi dalla CNN, alcuni ufficiali russi dell'intelligence e della difesa sarebbero convinti che invadere l'Ucraina avrebbe un costo ben più gravoso di quel che pensi il Cremlino. L'altra iniziativa diplomatica di giornata è la visita del cancelliere tedesco a Washington. È uno Scholz in difficoltà, quello che viene ricevuto da Biden. Da giorni in cassa critiche per il ruolo defilato che per ora si è ritagliato nella crisi ucraina, la stampa in sostanza lo accusa di non essere Angela Merkel, mentre gli Stati Uniti sono convinti che tra gli alleati europei la Germania sia la meno affidabile quando si parla di Russia. E non a caso oggi l'amministrazione. Biden ha ripetuto che se Mosca dovesse invadere l'Ucraina, il gasdotto Nord Stream 2, che collega direttamente Russia e Germania senza passare da Kiev, non dovrebbe andare avanti. Una partita, quella del gas, evocata oggi anche da Borrell, la Russia non esita a usare il gas come arma di ricatto e leva a geopolitica, accusa il responsabile della politica estera dell'Unione. Altre notizie dall'estero. Una ci porta anche con le immagini su una delle città più importanti nel Nord America, Ottawa, Canada, dove migliaia di persone stanno protestando da 11 giorni contro le misure restrittive anti-Covid. Il sindaco di Ottawa ha dichiarato lo stato di emergenza. Questo che vedete è Trudeau perché al Premier è stato chiesto di nominare un moderatore per gestire la crisi. La protesta era cominciata il 29 gennaio con un corteo di camionisti canadesi contrari all'obbligo vaccinale. Ma negli ultimi giorni migliaia di cittadini si sono uniti agli autotrasportatori e ora gran parte delle strade sono bloccati. I dimostranti chiedono innanzitutto che sia eliminato l'obbligo vaccinale, ma anche un allentamento più generale delle restrizioni anti-Covid. Ora torniamo in Italia perché c'è una vicenda nel Sud, in Calabria, che diventa emblematica per tante storie passate anche del nostro paese. Un professore porcone, scusatela, diciamo così, così ci intendiamo, che ha in tutti i modi intimidito e non solo le sue studentesse per tanti anni, finché una più coraggiosa non l'ha denunciato. Prima ha deciso di denunciare, oggi ha scelto anche di parlare ai nostri microfoni e il suo racconto circostanziato ai carabinieri delle molestie subite da parte di un professore quando minorenne frequentava il primo anno del liceo scientifico Valentini Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza. Ha portato a una vera e propria reazione a catena. Subito è scattata la solidarietà degli altri studenti che per protesta da quattro giorni occupano l'istituto. Poi sono arrivate le testimonianze di altre studentesse che su una pagina Instagram, creata proprio in seguito a questa vicenda, hanno raccontato di altre molestie fisiche, a sfondo sessuale e psicologiche. Così per Francesca, nome di fantasia, oggi maggiorenne, che aveva raccontato di aver avuto da un docente attenzioni particolari e richieste di foto intime in cambio della sufficienza nella materia, il timore di essere marginata e messa all'indice si è dissolto. Mi dà molta forza di andare avanti, di superare quello che mi è accaduto a testa alta, quindi non sentendomi sporca da quello che mi è successo, ma andando fiera perché ho fatto trovare il coraggio ad altre ragazze di parlare e di affrontare questa cosa. Da parte sua la dirigente del polo scolastico in un primo momento è sembrata sorpresa. Non so cosa sia accaduto, devo cercare di capire, devo investigare all'interno per capire qual è il problema che lamentano i ragazzi, perché noi appunto non abbiamo agli altri nessuna denuncia, nemmeno le forze dell'ordine. In realtà la procura di Cosenza ha avviato un'indagine conoscitiva sui fatti denunciati da alcuni studenti affidata ai carabinieri. Di fronte a questi sviluppi il consiglio dei docenti convocato dalla presida ha prodotto un documento in cui si scrive che se ci sono stati nel corso di questi anni azioni, comportamenti, episodi che hanno incrinato il rapporto di fiducia tra professori e alunni è interesse di tutti che questi emergano e siano valutati e perseguiti nelle sedi opportune, comprese quelle giudiziarie. Francesca invece rinnova il suo appello a denunciare. Io spero di essere stata comunque ad esempio a molte ragazze, di non fidarsi molto delle parole, delle voci che girano, delle finte promesse che poi non vengono mantenute, ma di andare direttamente a denunciare l'accaduto. Vi do ancora brevemente conto di una situazione che se vivete in Italia già conoscete in gran parte benissimo perché c'è un'ondata, non so come definirla diversamente, di vento che ha creato danni e disagi soprattutto nel nord Italia. Raffiche fino a 90 chilometri, allora soprattutto in Lombardia e Piemonte, centinaia di interventi ai vigili del fuoco, nell'Interland milanese quattro persone rimaste ferite, travolte dagli alberi crollati. Una parte del tetto della stazione, sono immagini che avete già visto, della stazione centrale di Milano, uno degli edifici più famosi, è stata divelta dalla violenza del vento, deviata alcune linee di mezzi pubblici bloccate dai rami caduti, scoperchiato il tetto di un asilo a Segrate, come quello di una scuola alla Veno, dove un hub vaccinale è stato danneggiato, riprenderà invece mercoledì l'attività vaccinale all'hub di treno a Milano, evacuato questa mattina per precauzione. E siamo dal vento alla neve, si potrebbe dire facilmente, ma andiamo a vedere una giornata gloriosa per gli azzurri alle Olimpiadi di Pechino. Le signore del freddo scivolano leggere, su sci o lame bruciano il mondo, testarde vincenti, stessi occhi chiari, stesso anno di nascita, 1990, persino il giorno è uguale, il 14, cambia solo il mese, Arianna è nata ad aprile, Federica è a luglio, questo racconta lo sport italiano nel giorno in cui Federica Brignone conquista l'argento nel gigante e Arianna Fontana entra nella leggenda vincendo la sua decima medaglia olimpica, eguagliando Stefania Belmondo, conquistando il primo oro azzurro di questa Olimpiade. Un oro ottenuto spingendo dal primo all'ultimo metro in uno sport che sembra avere il nome di un film, short track, e invece una disciplina durissima dove ci vuole equilibrio, tecnica testa e una forza esplosiva nelle gambe. 500 metri da percorrere a tutta con quel sorpasso impossibile e decisivo sull'olandese Schulting prima dell'ultimo giro, poi la commozione. La prima medaglia olimpica Arianna l'ha conquistata che non aveva nemmeno 16 anni, 16 anni riempiti da altre nuove medaglie, da rinunce quotidiane, diete ferree e anche qualche pensiero buio perché lo sport ti dà molto, ma toglie anche tanto parole sue. Pronunciate dopo aver pensato di smettere, accadde dopo l'Olimpiade di Soji 2014, non è successo. Anche Federica Brignone pensò di smettere due anni fa caduta a terra sulla nere amata, sulla nere cattiva, non ce la faccio più, disse. Esausta, spenta, la guerriera senza le armi, si è rialzata e tornata a vincere fino all'argento di stamattina, battuta solo dalla svedete Sara Hector. Una gara perfetta, che è un po' il ponte tra il passato e il futuro, che ha smesso definitivamente di essere un voto da riempire, ora è invece una scommessa già vinta. Nella mia carriera mi sono tolta, penso, più soddisfazioni di quelle che mi sarei potuto immaginare quando ero una bambina e guardavo le gare di sci e sognavo di vincere la Coppa del Mondo, quindi oggi è un grande capitolo della mia carriera. Sono già cinque le medaglie conquistate, domani di sicuro ne arriverà un'altra, è quella del curling misto, da decidere solo il metallo, oro o argento. Stefania Costantini e Amos Mosaner non hanno fallito un colpo, in semifinali hanno travolto la Svezia in finale, affronteranno la Norvegia. Comunque vada, un'impresa l'hanno già ottenuta a forza di spazzolate forsennate, sono riusciti a far scivolare il loro sport fuori dal piccolo recinto della curiosità. Che bello. Allora andiamo a vedere adesso quella che è tradizionalmente l'ultima pagina importante del nostro giornale. Data Room. L'edilizia è da sempre il settore con più incidenti e morti sul lavoro, ma mai così tanti come ora con Marco Bonarrigo abbiamo ricostruito. Perché? Primo, ci sono più cantieri aperti e tutti in una volta per via del fatto che il bonus per le ristrutturazioni energetiche, 30 miliardi, sono da spendere fra il 2021 e il giugno 2023 e quindi bisogna correre. Secondo, nascono come funghi nuove imprese edili che si buttano sul piatto ricco, 64 al giorno da giugno 2021 e a fine dicembre sono 11.006. È l'unico settore dove l'azienda non prevede al suo interno competenze specifiche e alla Camera di Commercio per convertire una partita IVA da autotrasportatore, agricolo, macelleria in edile basta un'ora. Il 90% delle nuove imprese non ha dipendenti. Terzo, molto lavoro vuol dire più mano d'opera che non si trova e si va a prendere in appalto da aziende dei paesi dell'est Europa oppure in affitto ma con competenze non di settore. il camionista che diventa muratore. Nel 2021 i lavoratori non in regola sono un più 12%. Nell'ultimo semestre su 100 cantieri ispezionati dall'Inail 91 hanno delle irregolarità. Quarto, i ponteggi. Il boom delle ristrutturazioni ha gonfiato i prezzi passati da 13-15 euro al metro quadro fino a 40 e si fa fatica a trovarli. Quindi si importano dalla Turchia o dall'est Europa senza il bollettino di conformità del Ministero dei Lavori Pubblici. E un ponteggio o una gru non a norma montato da personale inesperto è un incidente annunciato. Quinto, gli ispettori sono pochi e poche sono le ispezioni. Ebbene, su 13.000 violazioni accertate dall'Ispettorato del Lavoro, 6.500 riguardano la mancata adozione dei sistemi di sicurezza contro le cadute dall'alto, mancanza del doppio parapetto, materiali usurati, montaggio non a norma. Gli infortuni denunciati sono passati in un mese da 1160 a 1521 e nell'ultimo quadrimestre l'aumento è stato del 30%. I morti passati da 114 a 127 e questi sono i casi accertati dall'Inei perché riguardano gli assicurati. Poi ci sono i morti nel Lavoro Nero, quelli nessuno li conta. Amarissima, Milena Gabanelli è la conclusione, ma qual è il problema? Perché non si fanno, ad esempio, piatto, perché non si fanno i controlli? I controlli si fanno, si fa quel che si può. Tra l'altro sono stati intensificati negli ultimi sei mesi. Però, basta vedere il numero, sono 239 gli ispettori tecnici che devono andare a visitare i cantieri per l'aspetto della sicurezza di tutta Italia. Quindi 239 sono veramente pochissimi. Ed è un problema che c'è da sempre questo. C'è perlomeno una buona prospettiva che l'Ispettorato del Lavoro è riuscito ad ottenere dal Governo una procedura più rapida per i concorsi e adesso a breve appunto ci sarà un concorso che immetterà però fra qualche mese un migliaio di nuovi ispettori. Questa è una buona cosa, però intanto sui cantieri la situazione è quella che è. Senti, c'è l'altro aspetto. Ci sono tantissimi miliardi che si possono spendere e in realtà si devono spendere a tambur battente. Non c'è anche questo. Si poteva fare un piano, non dico quinquennale, ma maggiore gittata per permettere meno frenesia con i rischi ulteriori. E anche perché non c'è soltanto il rischio di incidenti, c'è il rischio di ruberie, come già sappiamo. Cioè non è il rischio delle ruberie, a me sono arrivate, hanno già superato il miliardo, le truffe che è riuscita a sventare l'agenzia delle entrate. Ma c'è tutto, insomma il rincaro dei materiali, i materiali che non si trovano, la mano d'opera che non si trova e di conseguenza è tutto quello che abbiamo appena visto. Ma in realtà il ministro per la transizione ecologica, cui fa capo la misura, Cingolani, aveva proposto, si era battuto per spalmare su cinque anni questi 30 miliardi. Ma c'è stata una resistenza fortissima, di fatto non è passata. E la ragione è proprio perché è più facile parlare per slogan e dire il governo voleva portare da 10 miliardi all'anno a 6, ci siamo battuti, siamo riusciti a tenere il punto, a tenere i 10 miliardi l'anno. Cioè questa è una cosa facile da capire e da propagandare per i partiti. La sostanza non sarebbe cambiata, è cambiata la forma, ma in questo caso però poi diventa sostanza quando si entra nei cantieri e si vede quel che succede, ahimè. Poi è inutile indignarsi quando cade la gru. Grazie, grazie Milena, chiarissima. Grazie a voi. Chiudiamo anche perché questa sera è importante, perché io non faccio mai il lancio dei programmi non giornalistici. Ma questa sera dopo 8 e mezzo c'è una grandissima serie, la più bella che io abbia visto negli ultimi anni, tratta dal più celebre dei personaggi che lottano contro la criminalità, insomma Sherlock Holmes. La serie è Sherlock con il grande Benedict Cumberbatch e chi non l'ha mai vista si la goda dal primo episodio questa sera, che viene dopo 8 e mezzo. Una puntata certo non debole, visto che il principale ospite di Lily Gruber è Giuseppe Conte, proprio oggi. Ci sono anche Massimo Giannini, Andrea Scanzi e Monica Guerzoni. Ci fermiamo. E allora vediamo in conclusione le borse, Milano ha chiuso con un meno 1%, tondo la prima seduta della settimana. In questo momento positivi gli indici a Wall Street, Dow Jones più 0,49, Nasdaq più 0,20. È tutto, Gruber, Sherlock, ci vediamo domani sera. Buonasera.